Beh, è importante perché è un appuntamento in cui si ricordano delle vittime e si pone al centro il tema dei diritti. Io dico sempre che essere qui con la fascia, rappresentare la città, significa che questa città storicamente oggi e domani continuerà a battersi per i diritti, soprattutto in questo periodo storico.